Ciao da Afsim! Tralasciamo la decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus e la prendiamo come presupposto di questo ragionamento, di queste riflessioni su quello che poi ha aggiunto, su quello che poi ha detto sull'etroscena, sulle sue motivazioni, sui vari passaggi che lo hanno portato ad annunciare, o almeno a farci conoscere perché lui l'aveva già detto da mesi, che lascerà la Juve alla fine della stagione e sono considerazioni e ragionamenti che dobbiamo fare soprattutto in chiave Andrea Pirlo, ma anche in chiave Maurizio Sari. Cioè cerco di ragionare insieme a voi a mente aperta per capire che cosa ci ha portati a questo disastro totale di questa stagione, salvando solo cosa, la Supercoppa italiana e forse la Coppa Italia da poter vincere dopo domani, oggi che è lunedì 17 maggio 2021, con una qualificazione la Champions League ancora da acquisire a 90 minuti dalla fine della stagione e già questa è una grande sconfitta sperando di riuscirci perché davvero l'Europa League sarebbe inaccettabile per quello che è la Juventus, per quello che dovrebbe essere, ma anche per quello che è stata in tutti questi anni e forse i primi ad accettare l'Europa League di buon grado sarebbero proprio quelli che per nove anni hanno fatto una testa così a noi stessi tifosi dicendo che la Juve era superiore, che la Juve era troppo più grande e di conseguenza la Juve non poteva essere criticata. Se non può essere criticata neanche adesso nei suoi uomini e nelle sue scelte con una eventuale qualificazione solo all'Europa League e non in Champions League, beh, allora ditemi quando è possibile criticare la Juventus. Ma forse non è il caso di parlare della tifoseria a critica della Juve che invece critica tutto quello che va contro la Juventus anche quando uno dice una verità assoluta come Del Piero aveva perfettamente ragione a dire a Sky che i tre rigori concessi nella partita contro l'Inter non c'era nessuno dei tre e soprattutto non c'era quello concesso a quadrato che poi è stato decisivo per la vittoria. E invece ci sono tifosi che si sono scagliati contro Del Piero infangando anche la sua storia con la Juventus solo perché si è permesso di, secondo loro, non difendere la Juve. Come se la Juve dovesse essere difesa dai cretini, cioè con i cretini, con gli stupidi e cioè dando ragione alla Juve anche quando ha torto, andando anche contro l'evidenza e contro la realtà per poi prendersela con anti-juventini vari, interisti e milanisti che non fanno altro che la stessa cosa. E cioè criticare al di là della realtà e distorcendo i fatti. Ve l'ho detto da un sacco di tempo, gli Juventini che lottano contro gli anti-juventini sono uguali agli anti-juventini, sono dei mostri creati da altri mostri. Quindi cerchiamo di elevarci e cerchiamo di andare a ragionare su quelle che sono le dinamiche della stagione. Che cosa quindi ha detto Buffon? Dove? A chi? E perché? Buffon è stato intervistato da varie testate, io ho ascoltato l'intervista a Dazon praticamente in diretta mercoledì sera, cioè poco dopo che era andata in diretta, dopo la partita di Reggio Emila contro il Sassuolo, in quella stessa sede è stato intervistato anche da Sky Sport. Ma le parole più importanti, oltre che averle dette a Sky Sport, la cui intervista è stata pubblicata poi ieri, domenica 16 maggio, le parole più importanti ci sono state dette a Bainsports, quindi in quella intervista preparata che è uscita alla vigilia della partita proprio con il Sassuolo, quindi martedì della scorsa settimana. Con però un annuncio, e qui vediamo a che cosa ha raccontato Buffon e che cosa possiamo dedurre da queste sue argomentazioni, che Buffon ha fatto alla società all'inizio gennaio, quindi all'inizio di questo 2021, dicendo alla fine della stagione comunque andrà e io me ne vado. Questo fa onore a Buffon perché decidere di andarsene con una stagione ancora molto aperta si doveva ancora fare tutto, giocare la Supercoppa italiana, acquisire la finale di Coppa Italia. C'era ancora la possibilità per la Juve di vincere lo scudetto e naturalmente eravamo ancora in piedi in Champions League. Fa onore a Buffon perché significa che non ha deciso di andarsene quando la barca stava affondando, ma ben prima. E probabilmente, anzi sicuramente, la sua decisione è addirittura da anticipare a prima di gennaio per come e quando è immaturata. Ed è qui il punto, perché è qui che io non sono d'accordo con Buffon per come ha scelto di fare le cose, ma soprattutto, dalle parole di Buffon, io traggo dei campanelli d'allarme su come sono andate le cose negli scorsi mesi e ho un pochino, sinceramente, di fastidio per come è stata gestita la vicenda Sarri. L'ho detto un sacco di volte, le parole di Buffon non fanno che confermare questo. Perché se lui dice, io ho avuto una proposta allettante che mi ha fatto tentennare, che mi ha fatto traballare all'inizio della stagione, ad agosto 2020, e quindi era un'offerta che io volevo assolutamente accettare e avrei assolutamente accettato, ma l'ho rifiutata perché da una parte la società Juventus era stata eccellente con me a livello contrattuale e qui pure dobbiamo capire che significa. Gli hanno offerto un rinnovo per farlo stare per un altro anno con il rinnovo appunto annuale che è stato fatto ad agosto oppure gli hanno dato semplicemente le stesse cifre. E dall'altra parte stava arrivando Andrea Pirlo allora ho deciso appunto di rifiutare. E quindi che cosa significa? Che Buffon, se fosse rimasto Sarri, se ne sarebbe andato tranquillamente per colpa di Sarri? O che Buffon è stato tra coloro i quali hanno contribuito a cacciare Sarri perché con Pirlo sarebbe rimasto e sarebbero rimasti? E in questi magari possiamo metterci anche Chiellini? E questa è la domanda che deve sorgere in un osservatore attento, in un ascoltatore attento delle parole di Buffon perché è qui che passa tanto delle responsabilità di questa stagione. Sapete che io non sono mai stato un sarriano sarrista, l'ho criticato tante volte prima che arrivasse alla Juventus, ho iniziato ad apprezzarlo forse solo dal Chelsea, anche se ho sempre riconosciuto la sua bravura nel Napoli, però ho sempre disconosciuto quella retorica e quella letteratura giornalistica che lo esaltava a creatore di un movimento di gioco che non è mai stato. Cioè il sarrismo, sarrible non sono mai esistiti perché sono soltanto delle terminologie giornalistiche per indicare non si sa bene che cosa. Detto questo, una volta preso Sarri e pur criticandolo nello corso della stagione per quello che vedevamo in campo e per quello che non vedevamo, non aveva senso l'esonero. E l'ho detto un sacco di volte. Perché va bene che siamo usciti agli ottavi, ma siamo usciti agli ottavi con un gol in trasferta, con una partita di ritorno giocata in casa senza pubblico, dopo mesi di partite ogni tre giorni, d'estate, insomma in una situazione veramente pessima. Va bene che ha perso la Supercoppa italiana, va bene che ha perso la Coppa Italia, però ha vinto lo scudetto. E quindi in quelle condizioni Sarri secondo me non andava cacciato, soprattutto, soprattutto perché questa stagione sarebbe stata molto complicata a livello di calendario. E non possiamo accettare che Buffon ci dica nessuno poteva fare meglio di Pirlo. Nessuno avrebbe potuto fare meglio di Pirlo quest'anno, aggiungendo che il problema con Pirlo è stato anche che non ha, poverino, potuto fare il pre-campionato. Si sapeva che non avrebbe fatto il pre-campionato. Proprio per questo dovevi tenere un'allenatura che già c'era, perché l'allenatura che già c'era del pre-campionato non avrebbe avuto bisogno. Pirlo avrebbe avuto bisogno di 4-5 amichevoli, ma vista la sua scarsa esperienza, pure di più, per collaudarsi da solo, per vedere effettivamente i giocatori che aveva a disposizione cosa sapevano e cosa non sapevano fare, invece di dover fare esperimenti già nelle partite ufficiali, che è poi come è andata. Mentre Sarri non avrebbe avuto bisogno di fare nessun esperimento. A Sarri l'amichevole col Novara sarebbe bastata e avanzata, perché la squadra la conosceva già. Ma noi stiamo ad ascoltare, ripeto, Buffon, che poi dice Pirlo è mio fratello fuori dal campo. Questo è bellissimo. Nessuno nega questo, però è anche controproducente ad un certo punto, perché se tu sei il portiere, secondo portiere, leggenda, personalità ingombrante della Juventus, ovviamente, nel bene e nel male, soprattutto nel bene ma anche nel male, e sei così amico dell'allenatore, permetti un attimo che qui la cosa si sta gestendo in maniera un po' troppo personale, che servirebbe qualcuno che è meno amico, perché poi fosse amico Pirlo solo di Buffon, forse andrebbe anche bene, perché parliamo del secondo portiere, invece è amico anche di Bonucci, è amico anche di Chiellini, è amico anche del Presidente, è amico di tutto l'ambiente. Ed è anche per questo che le cose sono andate così male, perché si è deciso di mandare via un allenatore estraneo, un allenatore contrapposto al mondo Juve, come Sarri, per prendere uno fin troppo interno, che a quel punto non era neanche criticabile, perché Buffon ha detto anche questo, noi abbiamo fatto mancare forse qualche cosa come giocatori, a Pirlo come allenatore, ma certamente non per remargli contro, perché appunto Pirlo per me è un fratello, figuriamoci se potevo togliergli qualcosa, quello che gli abbiamo fatto mancare sono stati sostanzialmente i punti in classifica, e ancora questo discorso che la Juventus se avesse fatto i punti che doveva fare, cioè 6 invece di 1 contro Fiorentina e Benevento, ne avrebbe avuti 10 in più, e di conseguenza adesso starebbe ancora lottando per lo Scudetto, o comunque avrebbe lottato per lo Scudetto fino alla fine. Ma basta dire questo, perché il punto è di aver giocato in maniera poco concentrata, e qui torniamo al discorso della grinta, della mentalità di cui ha parlato fin troppo Pirlo, e per cui è per questo appunto che si sono persi i punti, e non magari perché è mancata una proposta di calcio e una preparazione tattica da parte dell'allenatore, io credo che sia più la seconda. Ma dobbiamo tornare al discorso nessuno poteva fare meglio di Andrea Pirlo, perché questa frase ovviamente fa ridere in maniera isterica a tutti noi tifosi, perché se nessuno avrebbe potuto fare meglio di Andrea Pirlo, allora veramente siamo alla disperazione più totale. Ma soprattutto questa frase da parte di Buffon, nessuno avrebbe potuto fare meglio di Pirlo quest'anno, per me è un boomerang, è un bel boomerang, perché significa squadra inallenabile. Cioè se nessuno avrebbe potuto fare meglio di Pirlo, significa che il problema non è Pirlo, è la squadra. E nel momento in cui dici questa cosa, caro Buffon, stai dando addosso ai tuoi compagni. Buffon sta dando addosso ai compagni. Questo è anche il ragionamento da fare, perché significa, e Buffon l'ha detto nello stesso contesto, poi sono dichiarazioni che sono venute fuori scaglionate, prima l'una poi l'altra, ma in queste stesse parole, post Sassuolo Juventus, Buffon ha detto anche, che appunto la stagione è passata attraverso questi cali di concentrazione, questa incapacità di affrontare determinate partite, come se Pirlo non avesse responsabilità. Ora, io posso rispettare il punto di vista di Buffon, per carità è Buffon, però se mi dice, Pirlo è mio fratello, e poi lo salva da tutte le responsabilità, permettete che ci penso un attimo, e dico, forse sta parlando proprio perché è suo fratello e suo amico, e non perché è un giocatore allenato da quell'allenatore, e quindi servirebbe qualcun altro che ci venga a spiegare questa situazione. Ma ripeto, se Buffon ha deciso di restare, quasi facendo un favore alla Juventus, quando invece aveva deciso di andarsi in altrove, non sappiamo dove, ma probabilmente era l'Atalanta, solo perché era arrivato Pirlo, significa che forse Buffon faceva parte di quel fronte anti-Sarri, che ha portato a cacciare Sarri, e allora di chi è la responsabilità di tutta questa stagione orribile? Orribile dal punto di vista del gioco, perché a me sinceramente qualche vittoria qua e là, anche contro avversari, anche contro rivali storici, interessa poco, pesa veramente poco, perché io avrei voluto vedere una Juve dominante, anche che perde lo scudetto, ma lottando fino alla fine, e che sicuramente conquista la qualificazione della Champions League senza dubbi. Poi insieme ci potevamo mettere pure la Supercoppa Italiana, e la Coppa Italia sarei stato ancora più contento, così come potevamo fare zero trofei, ma qualificarci alla Champions League dell'anno prossimo. Lì è stata la differenza. E quindi di chi è la responsabilità? E anche di questi giocatori. Ma non nel senso che dice Buffon, e cioè che questa stagione è stata affrontata male dai giocatori per colpa dei giocatori. Nel senso che qualche giocatore, non per merito di campo o demerito di campo, ma per prerogative acquisite al di fuori, cioè nello spogliatoio, ha deciso che doveva essere mandato via Sarri, o ha contribuito a mandare via Sarri. E quindi adesso di cosa vi lamentate? Del precampionato? Dell'inesperienza? Il povero Pirlo. Il povero Pirlo ce l'avete messo voi. Un allenatore nuovo in una situazione in cui non si poteva cambiare allenatore. L'avete fatto voi. E adesso ve ne andate? Con i cocci rotti sul pavimento? Chi li raccoglie adesso questi cocci rotti? Chi si prende la responsabilità? Siamo a questo. Vedete che come parlano, comunque parlano questi signori, che sia Buffone, che sia Pirlo, che sia Paracci, Chiellini, tutte le persone che meritano il massimo rispetto che volete, perché lo so che poi vi indignate, perché io faccio la crociata contro Buffone, la crociata contro Chiellini. No, io sto qui solo ad aprirvi gli occhi, perché voi sapete cosa fate? Voi passate le vostre giornate, molti di voi, ad ascoltare trasmissioni televisive, trasmissioni web, a leggere siti, a leggere social, e personaggi vari, che non fanno altro che prendervi in giro, abbassando il vostro livello di comprensione, il vostro livello di intelligenza, buttandola tutta sulla rivalità con l'avversario. Stiamo ancora a parlare di Calvarese. Cioè noi rischiamo di andare in Europa League e voi parlate ancora di Calvarese e di come qualche giornalista, qualche direttore, qualche vice direttore e i media raccontano alla Juventus come se la Juve fosse veramente accerchiata. Ve lo stanno facendo credere. Vi stanno plagiando, vi stanno rendendo stupidi, perché quando siete stupidi non criticate la Juve e quindi non vi sorprendete se quelli che vi rendono stupidi sono proprio quelli che difendono strenuamente la Juventus con i suoi dirigenti e con i suoi nomi, Buffon, Chiellini, Pirlo, gente che non si... Agnelli, vergogna di accriticarlo che sono nove anni che ti porta gli scudetti. Perché è quello il gioco. Portare più massa di gente possibile, di tifosi possibile, a non criticare la Juventus. Questo è il punto. Essere aziendalisti paga in questo ambiente. Io non sono mai stato aziendalista perché ho sempre detto quello che penso. Se quello che penso è in linea con la Juve è un caso. Non è una mia scelta politica. Quindi non fatevi instupidire. State ancora a parlare di Calvarese. State ancora a parlare con gli interisti, i milanisti e gli anti-juventini come se fosse colpa loro di Calvarese o degli anti-juventini se la Juve rischia di andare in Europa League. Come se fosse colpa loro se Pirlo non è un allenatore. Guardate la luna invece del dito. Non lasciatevi plagiare e instupidire da gente che fa quel giochino lì perché forse c'ha pure degli interessi. Cercate di ragionare con la vostra testa. È così importante Calvarese? Non credo proprio. È così importante aver battuto l'Inter? Non credo proprio. Poi l'entusiasmo, il godimento ci sta. Siamo tifosi, è normale, è viscerale ma dobbiamo guardare oltre e guardando oltre bisognerebbe osservare questo. Bisognerebbe osservare che noi ci siamo messi nelle mani di Buffon che è Buffon ma è anche amico di Pirlo e che probabilmente ha deciso la cacciata di Sarri che invece rimanendo avrebbe fatto fare probabilmente la Juve una stagione migliore altro che nessuno sarebbe stato in grado di fare meglio di Pirlo ma chi l'ha detta questa fesseria? Con tutto il rispetto per Gigi Buffon è una fesseria ma come nessuno sarebbe stato in grado di fare meglio di Pirlo? E allora fate una cosa andatevene tutti perché se Pirlo non è colpevole ve ne dovete andare tutti da Cristiano Ronaldo a Gigi Buffon a Pinsoio passando per Di Bala passando per tutti Bonucci tutti quelli che volete voi andatevene tutti azzeriamo la rosa vogliamo fare così perché se la colpa è dei giocatori io voglio che se ne vadano tutti quanti posso chiederlo come tifoso oppure vado contro l'azienda oppure mi devo vergognare non sono abbastanza giuventino vedete che non si trova il ragionamento dove lo portate lo portate alla fine qualcuno deve essere responsabile non è colpa di Pirlo è colpa dei giocatori cacciamo i giocatori non ci salva nessuno non ci salva nessuno farebbero bene a stare zitti capisco Buffon che adesso pensa al suo futuro perché adesso valuterà valuterà il suo futuro valuterà le proposte che gli sono arrivate andrà dove andrà e quindi sta dismettendo anche i suoi panni da giuventino può dire quello che vuole ci mancherebbe che io metta a dire Buffon non può parlare il punto è che nel momento in cui parla è sempre un boomerang comunque la si metta perché sono successe cose nelle segrete stanze della Juventus odiose insopportabili che ci hanno portato a questo disastro e sono cose che sono successe sono scelte che sono state fatte non nel bene della Juventus non nel bene della Juventus ma per degli interessi personali che siano stati del presidente che siano stati del vicepresidente del direttore sportivo del capitano del vicecapitano del portiere di questo e di quell'altro mi pare evidente il problema è quello allora l'azzeramento non dovrebbe essere di anno in anno dell'allenatore ma dovrebbe essere azzerato anche qualcun altro bisognerebbe fare una rivoluzione un po' dappertutto in questa Juventus a prescindere dal piazzamento Champions che è comunque imprescindibile grazie per l'attenzione buon dibattito nei commenti mettete like al video se vi è piaciuto sentitevi liberi di mettere dislike e iscrivetevi ma anche disiscrivetevi sentitevi liberi al canale per continuare a seguire tutti i prossimi contenuti e nel caso attivate la campanella ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti